Buonasera, siamo di nuovo qui, Nunzia e io siamo felici di accogliere Alice Borgna, chiedendole come di prammatica di presentarsi e soprattutto qualificarsi. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice Borgna, sono una latinista, nonché una grande fan della Lontra, insegno lingua e letteratura latina all'Università del Piemonte Orientale e al momento mi trovo a Monaco di Baviera dove ho una borsa di studio alla Tesaurus della lingua latina, che è un po' proprio il cuore, l'istituto centrale di chi si occupa della lingua latina. E' un posto dove ci sono ancora tutte queste schede far cartacee fatte da signore borghese sfaccendate, no? Proprio coloro. Ecco, e grazie a queste signore noi possiamo fruire di una visione più accurata della lingua latina. Tutto questo è interessantissimo, ma forse potrebbe anche non piacere ai nostri, diciamo, cultori, perché ci sono anche cultori di antichista, sarà lei, e forse si vorrebbe parlare di questioni più, insomma, attuali, scabrose, e a questo proposito, infatti, la ragione principale per cui noi abbiamo fatto venire Alice e Borghia non è il fatto che sia latinista, perché poi i latinisti in Italia cede un tanto al chilo, ma perché Alice ha anche un'esperienza internazionale, non solo europea, è stata anche a Princeton, a Princeton dove, come si suol dire, succedono le cose, come direbbe Zero Calcare, no? Parliamo un po' di Princeton e perché è così importante parlare di questo ateneo americano che fa parte della famosa Ivy League, credo, no? O forse no, ci sta nell'Ivy League, c'è l'Eder anche lì, perfetto. Allora, che cosa può essere utile per noi sapere di Princeton e dell'avvenire delle magnifiche sorti progressive degli studi classici? Allora, a Princeton attualmente insegna come professore associato, ma era già lì come tenure track, Daniel Peralta Padilla, mi scuso se non l'ho pronunciato correttamente, che è uno studioso molto bravo, che ha anche una storia personale molto particolare, adesso non vorrei commettere errori, la dico così, un tanto al chilo, è un immigrato che grazie all'intervento di un mecenate, di un benefattore che notò da subito le spiccate capacità anche scolastiche o di apprendimento del ragazzo è riuscito a fare questa brillante carriera accademica, ha poi studiato, mi pare, sempre a Princeton, ha poi fatto vari postdoc qua e là, e poi adesso è davvero professore in una delle università più importanti del mondo. È però una persona, giustamente, che vuole che la sua storia influenzi anche il suo lavoro e soprattutto il futuro dei classici, è una persona che si interessa del futuro dei classici e che vorrebbe un futuro più accogliente e inclusivo e, diciamo così, di decolonizzazione. Si propone una decolonizzazione dei classici. Poi anche qui è stato anche un posto metallizzato, anche qua fuori onda, no, in realtà siamo in onda. Princeton è anche l'Ateneo di Jeff Bezos, l'inventore di Amazon, quando ero io lì, è stato chiamato lui a tenere il discorso introduttivo alle matricole, tanto per far capire dove l'Ateneo vuole che si guardi. Ma è un piacolo che si ammarcia il discorso alle matricole. Sì, esatto. Però per venire un po' alle cose più scabrose, qualche anno fa, mi pare nel 2019, o comunque un paio di anni fa, all'annuale meeting della Società dei Classicisti Americani, Daniel Peralta Padilla ha tenuto una relazione all'interno di un panel proprio intitolato appunto The Future of the Classics. Era un panel composto in cui si alternavano diversi relatori e che sostenevano posizioni anche abbastanza provocatorie, questo va detto. Soprattutto un intervento prima di lui si proponeva una messa in discussione dell'importanza dello studio della lingua, che è un po' un tema che magari affronteremo anche oggi, che è un po' il nucleo, cioè la cassetta degli attrezzi dell'antichista. Quando riempire questa cassetta, se ha 14 anni o più tardi, e come riempirla o se è importante riempirla. Ma tornando al nostro momento scabroso, Peralta Padilla tiene invece una relazione sul tasso di inclusività all'interno delle riviste scientifiche, cioè notando come all'interno delle maggiori riviste scientifiche anglofone vi sia una maggioranza di maschi bianchi educati tra Oxford, Cambridge e l'università dell'Ivy League. E quindi si proponeva una decolonizzazione anche delle riviste e dei sillabi. Chiaramente è una posizione innanzitutto provocatoria, che voleva lanciare uno spunto, anche perché su questo siamo tutti d'accordo, non è il momento in cui si fa la submission alla rivista, il momento in cui si deve intervenire, perché la possibilità o meno di pubblicare, cioè la risposta sì, il tuo articolo va bene, no, il tuo articolo non va bene, deve dipendere dal merito e non da genere, razza e altre considerazioni. E' naturalmente vero che se uno può usufruire, se uno ha goduto di un'istruzione di altissimo livello, è più facile che arrivi alle porte della rivista con il suo articoletto pronto a sottometterlo. Se uno non ha potuto godere di un'istruzione di tale livello, è molto più difficile che ci arrivi. Comunque, sempre venendo all'elemento chiave, subito dopo si alza una studiosa, magari su questo poi torneremo e diremo due parole, una studiosa mi pare texana, independent scholar, quindi non affiliata, ne nasce una discussione, lei ritiene che non si debba rifiutare l'etichetta radici, che la civiltà classica abbia dato le radici della democrazia. Tutta una serie di discussioni sorgono a seguito di questa sua difesa e delle radici e del ruolo della lingua, finché si degenera e lei dice a Daniel Peralta Padilla ma forse tu hai ottenuto il tuo lavoro perché sei nero, perché sei di colore, scusate. Abronzato. Abronzato, perché forse il fatto di essere una persona di colore potrebbe averti giovato nell'ottenere questo lavoro o comunque dice qualcosa di simile. Poi si corregge, dice io preferisco pensare che sia stato per il tuo merito ma qualcuno potrebbe pensare che. Comunque il video è su internet, è su YouTube se qualcuno è interessato a questo tema. Da qui ne nasce un'enorme discussione. La cosa di questo insomma eravamo consapevoli noi addetti ai lavori e il problema è che tutto questo si è svolto già parecchio tempo fa ancora prima della crisi della pandemia solo che a un certo punto c'è stato un cortocircuito. I giornali italiani ma anche francesi, tedeschi, si sono precipitati. Perché? Perché Padilla Peralta non parlava più a un consesso di più o meno classicisti ma ha rilasciato l'intervista a New York Times mi sembra di capire dove ha detto delle cose che il giornalista ha ritagliato portando a delle questioni che hanno scandalizzato non tanto gli americani quanto appunto gli studiosi, gli umanisti o anche il pubblico della vecchia Europa. A questo poi si è aggiunto un altro elemento è venuta fuori che alla Howard University un'università che non è certo rinomata per il suo programma di classics hanno deciso di tagliare gli studi classici che servivano a poco e trattandosi di una università come dire per abbronzati da dove è uscito fuori anche Kamala Harris e allora questo ha dato fuoco alle polveri. Ci aggiungiamo la cancel culture ci aggiungiamo tutti i classicisti indegnanti ah non studiano più o meno in America dove andremo a finire perché si comincia con l'America e poi si arriva qui e poi tolgono la cattedra a me allora al di là di quello che dice Padiglia Peralta e di quello che possiamo anche non essere d'accordo con quello che dice lui qual è la situazione? Come dobbiamo porci questa situazione e fino a che punto questa informazione mediatica è stata distorica? Allora la situazione proprio tagliandola molto breve secondo me, questo è il mio parere personale e va interpretata da un punto di vista prettamente economico perché è questo il reale punto cioè con la scusa della decolonizzazione si vuole tagliare una disciplina o una serie di discipline che sembrano non portare reddito e questo è tanto più vero in un sistema come quello americano privato in cui bisogna convincere i neodiplomati a iscriversi all'università pagare le tasse che sono molto costose anche perché noi spesso guardiamo il mondo universitario americano con quel filtro un po' bucolico un po' poetico delle borse di studio per cui massi vanno lì e giocano a football e poi danno una borsa di studio no, la borsa di studio è un sistema il sistema delle borse di studio è del tutto palliativo e le persone normali come potremmo essere noi pagano e pagano anche tantissimi soldi ci sono sistemi di assicurazione sistemi di prestiti cioè quando uno si iscrive all'università fa un investimento enorme sul futuro e questo investimento deve rendere se dopo aver pagato tutti quei soldi il lavoro alla fine non si trova come si fa a restituire il debito? quindi l'università vede negli studenti anche una sorta di clientela questo è indubbio, è una parola brutta ma va detta ma se la clientela è scontenta perché non ha trovato impiego subito dopo deve prendere sicuramente dei provvedimenti ecco, questo naturalmente riguarda non soltanto gli studi classici in senso stretto ma i classics nel suo insieme quindi anche la storia anche l'archeologia anche altre discipline e oggettivamente quando da oltreoceano dicono la storia antica del futuro non può più essere soltanto centrata sul Mediterraneo su Grecia e sui Romani ma dobbiamo parlare anche degli altri io penso che abbiano oggettivamente ragione che non si può più parlare di classics ma appunto, come diciamo noi di antichistica la questione è che però per studiare bene i classics bisogna anche fare studi classici e quindi diventa una sorta di uroboros insomma una sorta di contraddizione dove alla fine non si capisce bene chi dovrebbe fare cosa anche perché spesso chi predica la decolonizzazione magari dice di allontanarsi dal latino e dal greco e poi forse non lo sa così bene o sto sbagliando no, in realtà è così come dicevo prima il grande problema degli studi classici che poi studiare il mondo antico vuol dire studiare una pluralità vuol dire studiare un mondo plurale spesso noi siamo viziati da un modo di interpretare il mondo antico soprattutto il mondo romano come Roma dice Roma fa ma cosa si intende per Roma? cioè si parla Roma aveva un bacino enorme era un impero anche plurilingue multilingue l'ho già detto Apuleio che è un autore che compare su qualsiasi manuale liceale come autore di Roma a Roma non ci va mai se no forse una volta ci va una volta in Erasmus ma è attivo nel suo contesto che è un contesto mediterraneo è un contesto africano ed è plausibilissimo che anche i suoi trasti isomatici fossero quelli però noi siamo abituati a studiare Roma la letteratura di Roma antica in quel periodo Roma diceva Roma faceva anche gli stessi imperatori da un certo punto in poi a Roma smettono di vivere ci passano talvolta così perché era tradizione però è un impero molto plurale dobbiamo iniziare forse a decolonizzare se si può dire così anche il lessico ad esempio i regni che non sono Roma o che non sono il regno dei parti sono regni invece noi ne parliamo come stati cuscinetto potentati piccoli sovrani ma no erano re sovrani clienti la cosa più dura in assoluto io boccio chi mi parla di re clienti o il regno cuscinetto no è l'Armenia regno cuscinetto per esempio come vuol dire regno cuscinetto erano regni e i sovrani erano sovrani e Roma aveva delle relazioni con tutta questa pluralità che a volte erano di conflitto a volte erano commerciali e non conflittuali però è davvero una storia mediterranea e anche asiatica in altre parole i nostri colleghi e non solo vecchi parrucconi anche giovani parrucconi che si sono scandalizzati per tutta questa faccenda e che hanno una paura blu della cancel culture in altre parole loro non hanno tanto paura che si buttino giù anche in Italia le statue di Augusto o di Cesare o di Traiano hanno paura che li costringano a imparare cose che non hanno mai studiato fino ad ora cioè il fatto che una latinista mi parli di queste cose in modo direi ammirevolmente illuminato dà ben sperare ma io non sono tanto sicuro che tu rappresenti la maggioranza dei latinisti e probabilmente per quello che hai appena detto forse riceverai delle rappresaglie insomma ecco non lo so spero di no ma temo che siamo su questa lunghezza d'onda che cosa però a questo punto che cosa vogliamo che cosa vogliamo proporre perché è molto facile dire cosa non va fatto cosa bisogna criticare ma che cosa vogliamo fare qual è la prima cosa da fare per evitare che tutto vada si anche anche in Europa si vada verso una direzione americana all'insegna di quello che un famoso ministro della repubblica un tempo aveva detto con la cultura non si mangia come facciamo a mangiare con la cultura classica allora la risposta è una una sola ovvero bisogna sempre mantenere altissima la guardia sull'insegnamento secondario nel momento in cui toglieranno le materie da tutte le scuole perché anche questa è un'altra cosa che va detta spesso il latinista o il grecista cioè l'antichista si interessa molto delle sorti del liceo classico ed è giusto è ragionevole però il problema è che è il 6% del popolo degli studenti noi dobbiamo tenere la guardia alta su tutto cioè perché la storia la storia antica il latino perché il latino è il padre dell'italiano cioè quando noi proponiamo lo studio del latino lo dobbiamo continuare a proporre lo studio del latino anche nelle scuole diverse dal liceo classico perché solo il latino dà le chiavi per aprire il forziere dell'italiano è vero si deve un po' allontanarsi forse da quell'idea per cui studiare la lingua classica apre le porte della traduzione che è qualcosa di bellissimo che tutti noi abbiamo provato però ormai adesso siamo un po' nell'era della traduzione istantanea i ragazzi con un click davvero possono scaricarsi traduzioni bellissime senza andare a parlare di ragazzi che vogliono copiare la versione bisogna un po' ripensare la didattica ma non in senso semplificato assolutamente ripensarla in senso molto legato alla grammatica molto legato alla lingua ma qualcosa si deve fare io non ho la risposta mi piacerebbe essere una delle persone che la ripenserà non lo so ma non sarà una persona sola dovrà essere un pool un team di persone che porterà le esperienze esperienze anche di insegnamento a ragazzi che non hanno l'italiano come lingua madre questo dovrà essere sicuramente un orizzonte di fronte a noi quindi il futuro di una disciplina dipende dalle possibilità lavorative che lo studio di questa disciplina offre se noi perdiamo posti di lavoro a scuola è impensabile che potremmo continuare a esistere con grandi numeri anche perché faccio una piccola parentesi che tenevo a dire quando è successo il famoso episodio di per Alta Padilla la SIS e lo racconto per questo si è parlato di una polveriera pronta a esplodere che è esplosa in quel momento intendendo per polveriera un atteggiamento razzista diffuso da parte della comunità degli antichissi questo è vero fino a un certo punto perché la vera polveriera è un'altra come ho detto prima la persona che è attaccato per Alta Padilla era un independent scholar chi è un accademico sa benissimo cosa si nasconde dietro l'etichetta independent scholar cioè una persona che per mille motivi non è riuscita a trovare un posto di lavoro e poco prima di questo episodio anche questa è una cosa che in Europa si sa poco perché non è arriva poco prima di questo episodio un'altra cosa era accaduta c'è la chiusura di un blog molto noto negli Stati Uniti cioè Famevolent che è una sorta di wiki Wikipedia dei concorsi del mondo anglosassone ci sono anche varie cose ma la gente andava lì sopra proprio per essere aggiornato sui concorsi ma perché era importante perché in America in università privata non ci sono concorsi pubblici per assumere le persone mettono un annuncio l'application da completare i candidati si candidano e poi loro a un certo punto scelgono questo può essere interessante per quelli di noi che vorrebbero fare carriera in America ma torniamo alle questioni che possono interessare a un pubblico più ampio e direi tirando le somme non bisogna avere paura dell'uomo nero perché l'uomo nero non può farci più di tanto al tempo stesso però bisogna ricordare una cosa evitare naturalmente di fare come si faceva nella Francia coloniale dove si insegnava ai piccoli del Senegal i nostri antenati erano i galli però al tempo stesso spiegare a tanti tante classi che sono sempre più multietniche che certo non tutti avevano gli antenati romani però al tempo stesso il paese in cui vivono e si stanno integrando ha una cosa che è il diritto romano che nasce da radici che parlavano oggettivamente latino anche nei posti dove si trovavano nella parte orientale dove c'erano i greci che disprezzavano il latino c'era poco da fare la lingua e il diritto era quello e quella andava appresa ma sarebbe uno di questi esempi per capire come non bisogna buttare via il latino con l'acqua sporca bisogna prenderlo considerarlo e integrarlo è la stessa maniera quindi non si tratta di cancellazione si tratta di integrazione che prevede però naturalmente menti intelligenti e soprattutto aperte si anche perché spesso noi interpretiamo il latino e il greco con i filtri che ci provengono da visioni c'è anche l'uso che il fascismo ha fatto del latino dell'immaginario romano su facebook ad esempio ci sono gruppi stai uscendo da qua scusate una sedia girevole mi ha portato via ci sono gruppi di persone su internet che non sono chiaramente accademici neanche persone che ne sanno di latino e greco che scrivono cose come la rovina del mondo fu caracalla ma cosa vuol dire perché hanno un'idea della latinità finta fittizia che davvero nasce con i film muti per cui c'era davvero questa Roma come entità statica in cui la donna muta filava e l'uomo camminava con la toga e portava avanti la tradizione del vir e del pater familias questo non è quel che è Roma se queste persone venissero teletrasportate nella Roma antica ne rimarrebbero sconvolte perché si troverebbero di fronte a un suc a un tipo di città che non è assolutamente la città in marmo pari o in cui la questione della cittadinanza viene trattata con questa durezza che loro immaginano perché Roma è una città e c'è una città scusate l'impero romano ebbe sempre un rapporto molto elastico col tema della cittadinanza incredibilmente elastico rispetto a quello che è oggi nell'immaginario e poi non ha neanche senso fare questi paragoni anche perché quando io leggo cose come presto capiterà una nuova Adrianopoli con questa gente sui confini che spinge ma cosa vuol dire? Ci rendiamo conto che in un mondo che ha le armi diverse che non è più scontro braccia contro braccia ma le armi da fuoco cosa possono fare queste povere persone ai confini sinceramente e comunque erano tematiche anche nel mondo antico incredibilmente complesse Roma vince la guerra sociale ma poi dà la cittadinanza ugualmente la sto veramente tagliando con l'accetta però è un modo per rispondere a un certo immaginario quindi c'è bisogno da parte nostra di sporcarci anche un po' le mani e di andare a far vedere cioè che quello che era la realtà di Roma perché altrimenti se questa immagine dell'aquila romana che difende la sua cittadinanza diventa viene accaparrata da certi gruppi politici da certe idee politiche no qua non andiamo poi tanto e oltre a idee politiche abbiamo anche tanti allegri amanti di Roma antica è una cosa incredibile i social network sono pieni di gruppi dove si trovano ogni tanto dei messaggi abbastanza agghiaccianti e che si riferiscono appunto come dici tu a un'idea di Roma che è un'idea del tutto immaginaria oggi abbiamo avuto pochi messaggi l'unico più recente dove si spiega che non bisogna smantellare il liceo classico ma certo che non smantelliamo il liceo classico semplicemente bisogna pensare anche agli altri licei perché se no andiamo a fondo tutti tutti nessuno escluso e ora però il problema è che noi stiamo sforando veramente molto tempo il dibattito è interessante e siamo costretti a chiudere anche perché questo format prevede un siparietto molto breve d'altra parte voi siete tutti qui abbiamo fatto questo orario particolare permettevi di fare la happy hour adesso però potete tornare ad assembrarvi ma prima di questo facciamo un'ultima domanda lì c'è la domanda di parmatica e il cosa dovrebbe essere un antichista perché noi non possiamo fare molto per il futuro dei licei dell'istruzione e tutte altre cose però forse potremmo fare qualcosa per cercare di modellare meglio l'antichista del futuro soprattutto quello delle prossime generazioni come la tua cosa vogliamo farne? allora l'antichista del futuro do due risposte una politicamente corretta l'altra un po' meno tanto ormai siamo qua quella politicamente corretta è che l'antichista deve essere un ponte cioè una persona che crea un ponte reale solido effettivo tra il mondo di oggi e quello che era la civiltà del passato appunto smantellando credenze andando a far vedere quello che in realtà era e anche un po' cambiando dall'interno anche cercando di avere di guardare il mondo antico per quello che era e non per quello che ci piacerebbe fosse la risposta politicamente scorretta è questa l'antichista dovrebbe forse ricordarsi innanzitutto di essere un tecnico e mi spiego spesso noi io per prima ci aggrappiamo a dei temi di ricerca che magari ci sono stati dati e riteniamo di non poterci allontanare per nulla da questi temi di ricerca anche se sono datati o forse non sono più è brutto dirlo al passo coi tempi ma ci sono altre cose da fare perché nella ricerca antichistica tantissimo ancora da fare tantissimo però è difficile avere il coraggio di allontanarsi da quello che abbiamo ricevuto come insegnamento da quello che sappiamo fare perché siamo noi a volte che diciamo ma no io so solo fare Pompeo Trogo parlo di me stessa e non so fare nient'altro ma non è così nel senso si impara si ristudia noi possediamo un cassetto sempre la famosa cassetta degli attrezzi la possediamo e ci mettiamo lì e la applichiamo ad altri temi dobbiamo purtroppo chiudere questo è naturalmente una esaltazione agli accademici ma anche agli insegnanti a uscire dalla comfort zone fra gli interventi abbiamo ci hanno detto il latino sì ma il greco come la mettiamo vabbè poi prenderò una grescista la prossima volta e ne parleremo e forse non lo so forse chi lo sa anche il Klingon potrebbe rivelarsi utile per cercare di capire meglio questi rapporti con gli alieni anche perché ho l'impressione che per alcuni classicisti non ci sia molta differenza tra l'aramaico l'etiopico il cocto e appunto il Klingon ringraziamo molto Alice per questo intervento chiediamo scusa se vi abbiamo trattenuti troppo e ci vedremo la prossima volta con una sorpresa per il prossimo ospite quindi rimanete con noi e grazie ancora da parte mia e soprattutto da parte di Nunzia da Lontra arrivederci